Quest'oggi vediamo come personalizzare e utilizzare al meglio le schede del nuovo browser Microsoft. Innanzitutto possiamo andare a disattivare anteprime o miniatura delle schede. Per fare ciò chiudete innanzitutto tutte le istanze di Microsoft Edge. Una volta fatto ciò, digitate nel box di ricerca di Cortana Regedit o in alternativa Editor del registro di sistema. A richiesta di controllo dell'account utente, cliccate sì. Navigate attraverso le sottochiavi che vi saranno lasciate in descrizione. Arrivate alla radice, nello spazio bianco nel box di destra, cliccate con il tasto destro del mouse e selezionate Nuovo, Valore di Word a 32 bit. Se il sistema operativo è a 64 bit, selezionate sempre Valore di Word a 32 bit. Successivamente assegnatele il nome Tap Pick Enable. Assegnatele un valore esa decimali e pare a 0. Salvate e chiudete. Aumentare tempo e anteprima miniatura delle schede. Quando passate su una scheda aperta in Microsoft Edge, il browser mostra una miniatura contenente l'anteprima del sito. È possibile configurare per quanto tempo la miniatura delle schede rimanga visibile. Innanzitutto chiudete tutte le istanze di Microsoft Edge. Successivamente andate di nuovo su Regedit. A richiesta di controllo dell'account utente, cliccate su sì. Navigate in queste sottochiavi che vi saranno lasciate come prima in descrizione e successivamente, nello spazio bianco nel box di destra, cliccate con il tasto destro del mouse e selezionate Nuovo valore di Word a 32 bit. Assegnatele il nome Tap Pick Hide Delay. Il valore da segnare definisce per quanto tempo la scheda sarà visibile, in 1000 secondi naturalmente. Assegnando per esempio un valore decimale pare a 2000, la scheda sarà visibile per 2 secondi. Salvate e chiudete. Visualizzare immediatamente l'anteprima in miniatura di una scheda. Quando passate su una scheda aperta in Microsoft Edge, il browser mostra una miniatura contenente l'anteprima del sito. È possibile visualizzare immediatamente l'anteprima. Chiudete tutte le istanze di Microsoft Edge. Di nuovo collocatevi in Regedit. A richiesta di controllo dell'account utente, cliccate sempre su sì. Navigate con le sottochiavi presenti in descrizione. Nello spazio bianco nel box di destra, cliccate con il tasto destro del mouse e selezionate il nuovo valore di Word 32-bit. Assegnatele il nome TapPickShowDelay. Il valore da segnare definisce quando visualizzare l'anteprima del sito web. Assegnando per esempio un valore decimale pare a 1000, la scheda sarà visibile dopo un secondo, mentre impostando il valore decimale pare a 1 sarà visualizzabile immediatamente. Salvate e chiudete. Eravate a conoscenza di questi trucchi per personalizzare le schede di questo noto motore di Microsoft? Ne conoscete degli altri? Fatemelo sapere nei commenti. Fatemelo sapere nei commenti.